Sì, sono molto lieta di essere qua questa sera e sono grata ovviamente all'associazione che mi riconosce questo premio che per me rappresenta la sintesi di 20 anni di carriera in ambito fintech. La motivazione per cui mi viene riconosciuto questo premio è legata al fatto che nel tempo la fusione tra competenze finanziarie, tecnologiche e umanistiche, in quanto io sono un umanista, hanno rappresentato una modalità di approccio, di sviluppo di prodotti e servizi bancari innovativi rilevanti in Italia e questo ovviamente non può che farmi moltissimo piacere.